Bentornati sulla mia mini guida come acquistare un giradischi Technics SL12 MK2. Oggi voglio introdurre un nuovo componente, un nuovo elemento di questo giradischi e cioè la rotellina on off di accensione del giradischi. Prima di entrare nel vivo di questo video vi ricordo che se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, se vi è piaciuto questo video mettete un like. Allora questa è la rotella on off per accendere il giradischi e tra l'altro il logo che utilizzo per il mio canale di youtube, potete notarlo in basso a sinistra. Questo sistema di accensione del giradischi è diventato un vero e proprio standard nell'ambito dei giradischi da dj. Infatti questa rotella potete ritrovarla in tantissimi piatti, sia prodotti di recente, sia quelli più datati. Questa rotella però aveva un grande difetto, infatti le produzioni degli anni ottante, la prima produzione del giradischi Technics SL12 MK2 soffrivano del fatto che spesso questa rotella si distaccasse dal perno in ottone sulla quale veniva montata. Questa rotella infatti si trovava montata in questo modo, questa rotella è spaccata come potete vedere, quindi è inutilizzabile. Veniva montata qui sul perno centrale e serviva per azionare lo switch che era posto a contatto con questo perno, quindi con la rotazione si alzava e abbassava una levetta di uno switch di accensione. Qual era il problema? Che le prime versioni dei giradischi Technics, e qui ci ricolleghiamo al dettaglio dei giradischi che hanno sul braccio il tappino in gomma, le prime versioni dei giradischi avevano un sistema di accensione a rotella che pur essendo esteticamente identico a quelli più recenti, quindi questi qua, aveva però un grande difetto. Quando si distaccava la rotella on off dal suo albero, da questo componente, questo alberello scendeva, questo perno scendeva giù all'interno del giradischi ed era quindi impossibile azionarlo manualmente. Infatti Technics successivamente decise di introdurre un nuovo tipo di accensione a rotella, cambiando sia la rotella, l'attacco della rotella, sia cambiando l'albero in ottone che veniva montato all'interno del giradischi. Infatti se potete notare attraverso le immagini di questo video questo albero in ottone è del secondo tipo, del modello aggiornato, questo invece è del primo tipo. Ce ne accorgiamo da tre dettagli. La prima differenza è nella sezione dell'albero, dove viene inserita la rotella on off. Nella versione più recente, quella che ha subito le modifiche, abbiamo una sezione a mezzaluna. Ok? Abbiamo una sezione a mezzaluna, mentre nella vecchia versione, nella versione precedente, è una sezione circolare, una sezione rotonda. Il secondo dettaglio che distingue la versione aggiornata dell'albero in ottone dalla precedente versione è la presenza di questo o-ring. Questo o-ring, infatti, è il componente che permette all'albero di accensione del giradischi di non cadere all'interno del Technics. Quindi, nonostante si sia distaccata la rotella on off dal suo albero, è sempre possibile l'accensione manuale con le dita, cosa che invece non poteva avvenire con il primo tipo di albero, perché è privo di questo o-ring di sicurezza. Queste sono le prime due differenze tra le rotelle on off. Vedete? Infatti, quando questa circostanza capitava, i proprietari dei giradischi Technics cercavano in qualche modo di recuperare l'alberello in ottone che era caduto all'interno del piatto, per cercare in qualche modo di accenderlo. Ma, come vi ho detto, spesso cadeva all'interno del piatto e quindi non è difficile trovare degli alberelli. Vedete come è tutto mangiato, qualcuno avrà tentato con una pinza, con qualche attrezzo, di recuperare, di riportare in alto questo albero in ottone per permettere l'accensione. E vedete come quasi tutti gli alberi a sezione rotonda facevano la stessa fine. Questo non è stato in qualche modo toccato, invece questo al centro è stato leggermente toccato, mangiato da un qualche da una qualche pinza, invece questo terzo è stato veramente quasi distrutto. Qual è la terza differenza tra le vecchie rotelle on off e le nuove? Le vecchie rotelle, come vi dicevo, avevano un albero, la cui sezione era rotonda nella parte in cui si montava la rotella. sull'albero, sul perno in ottone. Ma questa cosa purtroppo dava un'altra problematica a chi voleva in qualche modo sistemare la rotella e cioè orientare la stessa. Infatti non essendoci alcuna guida spesso capitava che la scritta power on off non fosse allineata nella rotazione quando si accendeva o si spegneva il piatto e spesso capitava che il collante, l'adesivo che tratteneva l'albero sulla rotella con il tempo si ammalorava e quindi si andava a girare la rotella ma in realtà il perno non ruotava e non si accendeva più il giradischi. Con l'introduzione dei nuovi alberi a sezione a mezzaluna, vedete? Questo problema venne risolto perché chiaramente l'attacco della rotella on off non era più un non aveva più un alloggiamento sferico ma ce l'aveva a mezzaluna. Quindi la rotella poteva essere inserita nel senso giusto e quindi non rischiavate di montare la rotella sul perno, sull'albero in ottone in maniera sbagliata. Non voglio aprire questo ricambio originale ma tento di mostrarvi questa particolarità. In conclusione, che cosa vi invito a fare quando acquistate il vostro giradischi Technics? Controllate sempre per me l'indicatore di vetustà del piatto. Adesso ve lo mostro. Per me rimane e resta questo dettaglio del tappino in gomma. Infatti i giradischi con il tappino in gomma che vi ho fatto già vedere in altri video della mia mini guida avranno sicuramente il tasto la rotella di accensione on off con l'albero a sezione rotonda quindi non monteranno la versione più recente. Diversamente i giradischi che sono privi di questo tappino in gomma saranno i giradischi di produzione più recente e molto probabilmente già al loro interno ospiteranno un sistema di accensione on off aggiornato. Con questo è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale. se avete qualche domanda lasciatemi un commento.